Come dice il proverbio, arriva l'Epifania e tutte le feste le porta via. Ad Arezzo ha portato via anche un'edizione memorabile della città del Natale, numeri da capogiro che hanno indubbiamente decretato un successo inaspettato anche per gli stessi organizzatori. In questo video pubblicato sulla pagina Facebook della manifestazione, si vede anche il grande lavoro dietro le quinte che c'è stato. Dalla ruota panoramica al planetario, al villaggio Lego, la pista del ghiaccio, la Game Arena, il villaggio tirolese aveva già salutato la nostra città nel 2018. L'appuntamento è rimandato soltanto di qualche mese, novembre 2019, magari con qualche piccolo miglioramento come i bagni pubblici ed un collegamento più efficace tra i parcheggi e il centro storico. Tra l'altro ci tengo a fare i complimenti perché ci sono stati veramente nove imprenditori aretini che hanno scommesso insieme a noi in questa avventura con grandi sacrifici perché sono qui a lavorare per Natale e Santo Stefano Capodanno. Quindi vi voglio fare i complimenti e spero che il prossimo anno siano sempre di più.